Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo all'autostrada sulla Firenze Mare, restano code a tratti per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Monte Cateni Terme e Vivio Colla 1. FIPD per traffico, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Segnerebbe inoltre la presenza di personale su strada allo svincolo di Scandicci in entrata e in uscita nelle due direzioni. Con lo sguardo al traffico ferroviario per un intervento di assistenza medica a bordo treno nella stazione di Poggi Bonzi, il treno 19-114 Buon Convento Empoli è cancellato da Granaiolo a Empoli. I viaggiatori utilizzano il treno 18-214. Inoltre il treno 18-183 Empoli-Pisa è cancellato sull'intera tratta. I viaggiatori utilizzano il 18-283 o 18-285. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, attenzione probabile allagamento in via Reginaldo Giuliani. Buon aversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.